Max Pezzali 8.33 minuti qui su Crystal Radio, Max Pezzali con gli anni 8.33 minuti, quasi eh? Cioè? È per 8.83 Ah, mamma mia che roba, mi hai fatto apposta 8.33 minuti per gli 8.33 Non era male chiamare gli 8.33 invece degli 8.83 Non c'era la moto C'era un motivo però per cui ho messo gli anni Perché è l'ospite di questa mattina Che con noi ha scritto un libro Caro mio Masieri, tu leggi libri? Sono senza figure Ogni tanto sì Infatti immaginavo Si intitola 12 mesi di newsletter Oppure se l'avrei scritto Max Pezzali Un anno di newsletter Però effettivamente 12 mesi è Dall'idea di che c'è più roba dentro C'è un anno, c'è solo un anno No, no, c'è un 12 mesi E' come quando dici che i bambini Quanti anni ha? Quanto tempo ha? Un anno e mezzo No, ha 18 mesi 36 mesi Sembra che sia più il somaggio 36 mesi Quello è famigiano reggiano Sembra che sia più grande Infatti, sembra che sia più grande Stati fatto che il libricino è piccolo Ma quello che ci puoi fare è molto grande Diamo il benvenuto a Daniela Ceriana Grazie Buongiorno C'è un anno nel sottotitolo Guida pratica per un anno di mail marketing È vero, è vero, è vero Entrambe le letture Ci sono entrambe Puoi decidere tu, infatti Io faccio 12 mesi Così faccio passo passo Un anno intero mi mette ansia Faccio un mese alla volta 12 mesi Allora, Daniela Ceriana Tu sei un'esperta Diciamo, del mondo del mail marketing Del digital Ma soprattutto proprio delle newsletter Io pensavo fossero morto e straborto Come si dice, no? Le newsletter Le newsletter Che sono quelle mail che arrivano a casa Vi dà un fastidio E buttatele uno spam Per me era quello Invece non è così No, esatto Le newsletter sono quel canale di comunicazione Che sta seduta sulla sponda del fiume E guarda i social passari I cadaveri dei social passari Ah, vedi? Perché la newsletter è la prima che è arrivata Ed è ancora vive e vegeta tra di noi Hai capito, vedi? Perché come funziona? Cioè, un'azienda Ma chiunque, alcun professionista Anche il bar sotto casa Volendo, anzi Tu mi dicevi che Spesso e venentieri Sono proprio quelle super local Che funzionano anche, no? Esatto Può tranquillamente comunicare Con i suoi clienti O potenziali tali Tramite le newsletter Come funziona? Anche le no profit tra l'altro Quindi non devono essere per forza clienti E anche ad esempio Un content creator Che parla a un pubblico Però non monetizza da quel pubblico Quindi la newsletter È un mezzo semplicemente Praticamente è Qualsiasi comunicazione Che non siano le mail tra privati Tra gli amici Che dico Ci mettiamo d'accordo per Tutto il resto Cioè, quando fai il fantacalcio Lì per fare la Non è una newsletter Non è una newsletter Poi tra l'altro La newsletter è una parte Dell'email marketing Ah, ok L'email marketing Fondamentalmente Ci sono le newsletter Ci sono le dem Che è direct email marketing Che sono di solito Quelle che finiscono nello spam Perché è la mail di vendita Ah, è diverso Cioè, quella che mi arriva dicendo Oh, non puoi perdere Ti è arrivato un nuovo sbiancatore Per i denti Quella è una newsletter È una dem, capito? E tra l'altro E il PD Ah, no, non è la stessa cosa No, non è dem Scusa I dem No, quello è idem Questa è la dem Ok, scusa E tra l'altro A livello di GDPR Quindi di regolamento per la privacy GDPR Ah, ok Quello sì GDPR Come chiamiamo noi italiani Ok Viene visto in modo diverso Ad esempio la dem Quindi se io ti voglio vendere un prodotto Ok C'è una cosa che si chiama soft spam Quindi spam più leggero Leggero, ok E io per legge Se sono un negozio ad esempio di abbigliamento E tu hai comprato dei costumi da me Io ogni anno ti posso mandare La mail di dem Ok Dicendo è uscita la nuova collezione Comprala qui Ok In quel caso non ho bisogno del tuo consenso È l'unico caso in cui non c'è bisogno del consenso Cioè quando io acquisto Diciamo do una sorta di consenso assenso A farmi ridire Questa cosa ti è interessata una volta Magari ti interessa ancora Sì ma solo di prodotti e servizi Che siano coerenti con quello che hai comprato Cioè se sei Poi vabbè Ci sono sempre interpretazioni Se vado a comprare il mangiare per il cane Magari mi arriva anche quello del mangiare del gatto Sì però non ti arriva il tono della stampante Ok chiarissimo O se ti arriva tu puoi fare La comunicazione al garante della privacy Io ho comprato il mangiare del cane E mica il tono del Esatto Puoi fare la comunicazione al garante della privacy E dire hanno usato i miei dati senza il mio consenso E allora non abbiamo capito nulla Cosa sono le newsletter allora Esatto Per te cosa significa la newsletter Per me la newsletter È questa roba qua È quello che ti mettono le promozioni Google Google Mail Invece è qualsiasi comunicazione Che ti arriva da un'azienda Un'associazione Una Persona giuridica chiamiamola Facciamo così Quindi chiunque ti vuole comunicare qualcosa Se ti manda una comunicazione Ti manda Le newsletter di solito sono periodiche Periodiche ok Quindi io mi sono in un certo senso iscritto È come se mi fosse una rivista quasi Esatto Usando termini sbagliati E cosa mi arriva in questa newsletter allora? Ti arriva quello che decide la persona che scrive Hai capito E per decidere cosa scrivere Sai come fai? Compri il libro La Nina Ceriana 12 mesi di newsletter Giusto abbiamo capito Esatto Cioè tu in questo libro spieghi Dai dei consigli su come Essere diciamo Sempre al passo con quello che succede durante l'anno Perché ci sono dei momenti Diciamo Delle cadenze Delle scadenze durante l'anno Che si possono Tra virgolette Sfruttare Per poter comunicare meglio Il proprio business O la propria associazione O quello che vuoi E comunicare con chi ti segue Facciamo un passo indietro Il perché serve questa cosa Questa cosa serve Perché bisogna creare una relazione Con la persona che ci segue Capito Perché la vendita non è semplicemente Quindi fai una newsletter Per cercare una fidanzata No Cerchi una relazione Così Ma sì Ce la puoi fare Perché effettivamente La relazione tra chi vende E un potenziale acquirente E un acquirente È una sorta di relazione di corteggiamento Perché bisogna conoscerci Conoscersi E il potenziale cliente Deve capire che L'offerta fa parte È per lui o per lei L'offerta giusta Cioè nel senso che capisco Che alla fine non è appunto Una mail che è arrivata A milioni di persone Così dicendo C'è questa novità Ma è quasi quasi Studiata un po' su di me Anche emotivamente È più percepita Come una comunicazione più personale Ok chiaro 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 Beh allora facciamo così Noi adesso ci fermiamo Per un pochino di musica Ovviamente Perché siamo qui su Cristal Radio E la musica non può mancare Ma quando torniamo Entriamo a vedere allora Questi benedetti 12 mesi Ok Sono curioso Mi sono curioso di capire Cosa va a fare il giorno del tuo compleanno A questo punto Non so Perché c'è un po' Diviso messe per mese C'è un titolo di capitoli Gennaio febbraio Marzo Scusa tornando sul discorso di prima L'alfabeto non lo sai I mesi I mesi certo Cosa viene Giugno E cosa devo dirti Quello dopo o quello qui Quelli dopo Luglio Agosto eccetera Ah ok Se mi dici D Marzo Aprile Maggio F A B C D E F G No Fantastico Fantastico Da me ne torniamo fra pochissimo Questa è Miriam Makeba Miriam Makeba Non è vero Ah no perché è Jane Che canta Makeba Miriam Makeba era un'altra cantante famosissima Ma che sto a perdere tempo con te Dai Beh allora che non è Jane con Makeba L'avete capito subito appena è partito Questi erano Tanana e Marrakesh Ma soprattutto Merck Cremond con un altro mondo Me la metto dopo va bene Jane Va bene Ok Lo so che ci tenevate 8 e 42 minuti Qui con il nostro ospite Daniele Ciriana Per parlare del libro 12 mesi di newsletter Allora Il libro come funziona Cioè per chi è e come funziona Il libro è per tutti Quelli che vogliono comunicare Attraverso la newsletter Quindi tutti quelli che vogliono creare Un rapporto Con le persone che li seguono Una Vogliono appunto creare un'interazione Con le persone che li seguono Per poi vendere qualcosa Quindi di solito è un business Oppure Se hanno un altro modello di business Come ad esempio gli influencer Che Monetizzano in un'altra maniera Però hanno bisogno di un pubblico Di persone che li seguono Quindi per tutti quelli che vogliono avere Parlare con chi li segue E come lo possiamo utilizzare proprio? Cioè Può essere una guida da usare tutti i giorni no? Sì c'è Allora Qui c'è la mia risposta preferita Nel mondo della consulenza Che è Dipende Ok Che è una risposta che sta un po' sulle valle Però effettivamente nella comunicazione Tutto dipende Tutto dipende Sai che dipende? Oggi stai facendo troppe citazioni Che non sto capendo La rame del palo Depende? Eh non ce l'ho Vabbè però Prendi vai fuori Allora Presidente di Cristal Radio Chiedo che mi abbia cambiato La spalla Sono fortissimo Su quelle citazioni lì Tue Tu sei solo Sanremo No ci capiamo io e te Ma oggi veramente difficile Va bene Difficile Difficile Comunque Essendo un calendario Tra l'altro Un calendario di contenuti È nato per Scrivere delle newsletter Quindi per produrre delle newsletter Ma in realtà Può essere utilizzato Anche per chi comunica sui social Quindi aiutare a costruire Un calendario editoriale sui social Perché spesso Non si sa che cosa dire Tante volte Dici Che cosa dico E quindi come allora Quindi è diviso in Mesi È diviso In due sezioni In realtà Prima c'è Tutta una guida Molto breve Molto pratica Su come pianificare Un anno intero Di contenuti Quindi consiglio di mettersi lì Una o due volte l'anno Di sedersi Prendersi una mezza giornata Qualche ora All'inizio Le prime volte Sarà un pochino più Più complesso Ci vorrà un pochino più di tempo Per fare questo lavoro Però Avere il Il quadro dell'anno Che verrà Avere la visione di insieme Cercare di capire Come fare una comunicazione Mese dopo mese Che sia coerente Quindi per mandare Un messaggio Che sia coerente Alla fine del libro Spiego anche come fare Poi una revisione annuale Quindi Prima di fare La successiva pianificazione Vedere come è andato Quello precedente E poi c'è una parte centrale E poi c'è una parte centrale grossa In cui analizzo Mese per mese Ogni Ogni mese dell'anno Qual è l'atmosfera Quali sono le festività principali In Italia Io mi Mi concentro sull'Italia Perché poi Le festività Le giornate nazionali La cultura Sono Cambiano molto Da paese a paese Da persona a persona Insomma Mi sono concentrata in Italia Perché questo è il mio campo d'azione Fondamentalmente Anche se in realtà Ci sono alcune festività Internazionali Che non sono di origine italiana Però stanno prendendo sempre il piede E le feste importate Da Dallouin Che è la più famosa Poi ho visto San Patrizio C'è San Patrizio Che ogni anno È sempre più importante C'è anche Il 4 di luglio Che noi non abbiamo niente A che vedere Con l'indipendenza Degli Stati Uniti Giusto Però Essendo un'occasione In cui si festeggia molto Ci piace importare Le festività Anche perché ci piace Avere sempre occasioni Per festeggiare Insomma Per fare cose speciali Faccio una piccola osservazione Perché appunto Mi incuriosiva La divisione dei mesi Appunto Che riporta anche le festività Eccetera E pensandoci Io effettivamente So quando è la festa della mamma So quando è la festa dei papà Dei nonni Eccetera Quando mi arriva la newsletter Di un Un noto Quelli che stampano le foto Dio non mi Ok Però non dico il nome Sì ho capito Che ti ricordano appunto Che c'è la promozione In vista della festa Di Totti In vista della festa Di Totti E poi Le newsletter Tipo In Durante l'inverno Durante l'estate Hanno effettivamente Tutta altra grafica Tutto altro Esatto Tutto altro sapore Ok Infatti come bonus Mi devo interrompere però Perché adesso è arrivato Il momento di Jane Con Makeba Ci sentiamo fra pochissimo Subito dopo La piccolissima pausa A fra poco Ve l'avevo promesso Jane Makeba Eccola qui Alle 8 e 49 minuti Sempre qui su Crystal Radio Sempre qui Con Good Morning Milano Insieme a Lorenzo Masieri Fabio Ranfi E il nostro ospite Daniela Cerigana Chi ha la domanda Qual è Diciamo la parola fondamentale Del marketing Del marketing In generale Hai detto Qual è che era la domanda La parola principale Dipende La risposta è dipende Hai capito qual è Non si erano messi d'accordo Lo giuro Ma fatta fatica Lui grande Rabbe de Palo Anzi un grande Ricordo a Rabbe de Palo E ci ha lasciato Fin troppo presto Grande cantante Tutto dipende Scusate Il momento di Amarcord Infatti lui dice Da che punto Guardi il mondo Tutto dipende Perché effettivamente È semplicemente Punto di vista Perché quando mi chiedono Ma funzionano Le newsletter Ma i lettori Leggono le newsletter Dipende Dal loro punto di vista Se arriva una comunicazione Che per loro è importante La leggono L'aspettano E io ho Seguito dei progetti In cui doveva arrivare Una newsletter In un certo orario Non è arrivata Perché si è inceppato Il meccanismo Le persone sconvolte È successo qualcosa Oh mio dio Ho bisogno di questa newsletter Un po' come la mattina Quando noi magari Abbiamo in ritardo Di un minuto o due Che la gente Comincia a chiamare Alla radio Dicendo ma come mai Non c'è Fabio Lorenzo va bene Ma come mai non c'è Fabio Si chiedono Eh no Invece ci siamo qui Tutti i giorni Dalle 7 alle 9 Su Cristal Radio E Milano All News Dicevamo invece Allora oggi che giorno è a proposito 25 settembre Allora oggi Se dovessimo fare uscire Una mail oggi Cosa Una newsletter Oggi scusa Allora andiamo a vedere 25 settembre Però c'è Siamo ottobre Settembre 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 è Un nuovo inizio L'hai chiamato Sì Oggi è la giornata mondiale Dei sogni Ah hai capito Ecco perché c'è il sonno Stai ancora sognando Masieri Pensa che è lunedì Pensa che è lunedì Invece ad esempio Settembre è un nuovo capodanno È il doppio capodanno Diciamo in Italia L'anno inizia a settembre In realtà Cioè no in realtà Ci sono questi due momenti Che indicano l'inizio Di un nuovo ciclo Di un nuovo anno Può essere perché Molti si agganciano Al rientro a scuola di bambine Quindi anche il rientro lavorativo Dopo le vacanze Però in realtà Anche anticamente Era una nuova stagione La fine Cioè Settembre Era la fine dell'estate Era la fine della stagione Del raccolto Iniziava un altro anno E invece è interessante Ottobre Sottotitolo di Ottobre Coccole e Relax Beh Sì Perché è l'autunno Così allora ci mettiamo lì Sì divano Tisanina E ma questo vale per tutti Cioè questo diciamo Cioè alla fine della fine Questo proprio Declinarlo un po' per tutti Cioè effettivamente Che io faccio una newsletter Dove parlo di videogame Esatto Oppure che faccio una newsletter Dove parlo di Pasta dentifricia Cioè per assurdo Sì perché comunque L'anno è ciclico E infatti Ci sono le stagioni Che si susseguono Anche se Oddio ultimamente Negli ultimi anni Sì non ci sono più Le mezzestagioni È un pochino più Complesso questa cosa Perché magari Dici Settembre Io mi ricordo Qualche settimana fa Quando facevo la revisione Settembre dicevo Ah si abbassano le temperature Finita l'estate Guardavo fuori C'erano ancora 30 gradi Però tutto sommato Comunque questa Questa ciclicità c'è E tante volte Siamo molto più legati Alla ciclicità Per un concetto di Passami il termine Abitudine Che non di Temperature che c'è fuori Per dare un'idea Appunto di settembre Come ripartenza Eccetera Se leggiamo il primo consiglio Suggerimenti per pianificare Al meglio Il nuovo periodo dell'anno Rimanere motivati E mantenere alta La produttività Esatto Rimanere motivati Lo puoi fare solamente Se prima c'è stato Un qualcosa Che ti ha dato Un po' uno stacco Ti ha fatto rilassare Come le vacanze Quindi È più che comprensibile Per me Settembre È gennaio Anche Poletti L'aveva letto Qualche settimana fa Nella sua buon lavoro Ha detto Forse dovremmo cominciare A pensare Che l'anno Inizia a settembre Interessante però Come invece C'è un mese Che mi siamo bistrattati Da tutti quanti Tanto non c'è nessuno Che è agosto È un mese In cui si vende tantissimo È un mese In cui si fa Tantissima comunicazione E soprattutto Per chi fa UGC User generated content Cioè I contenuti Creati dagli utenti Ah giusto Perché sono in vacanza Possono farlo Quindi magari D'estate Si può fare Una challenge In cui si invitano Gli utenti A pubblicare Determinati contenuti E così si ha Le persone più ingaggiate Ho capito E interessante Fate il titolo Il fuoco della trasformazione Cioè si dà Un là Anche a Migliorarsi Sì anche perché Rallentando d'estate Ci si mette un pochino più Si pensa un po' E tu quando è che fai il compleanno Ad aprile Aprile cosa facciamo Per la newsletter Del compleanno Aprile dolce dormire Aprile dolce dormire Lo prendo dalla lettera Dipende perché Ci sono certe festività Che sono fisse Come il Natale Certe festività Che cambiano Come Pasqua Quindi se ad aprile Cade Pasqua Vinciamo facile Sei il nostro Coniglietto pasquale Sei Lorenzo Quest'anno che arriva Mi sembra che sia Il 31 di marzo Giù di lì E quindi ad aprile Andremo più sui contenuti Primaverili Chiarissimo Chiarissimo Sapete che dobbiamo salutarci? Di già Sì di già Dobbiamo già salutarci Siamo già arrivati alla fine 8 e 55 minuti In questo istante E dobbiamo salutarci Sì Però a questo punto Io ringrazio Daniella per essere qui con noi Grazie mille Grazie mille Dove si trova il libro Allora il libro si trova su Amazon Su Amazon Se hanno domande da farmi Mi possono cercare Praticamente su tutti i social Comunque principalmente Instagram LinkedIn Facebook Daniellaceriana.com Funziona? Sì sì funziona Ci sono un po' raggruppate Tutte È un sito molto semplice In cui ci sono raggruppati I miei contatti Chiarissimo Lorenzo dobbiamo davvero salutarci Non neanche rientro dopo La pausa Perché oggi siamo andati lunghi Abbiamo tempo di dire Ai 7 secondi Allora non abbiamo tempo di dire Ci vediamo domani Dalle 7 alle 9 In diretta su Crystal Radio 96.2 Ecco bravissimo Ma io ho 19 secondi Di intro sulla canzone Per salutare Per salutare tutti Grazie mille E chiudiamo con una canzone Che non avevamo ancora messo Questo mese Parla di mesi Parla di settembre Non avevamo ancora messo Settembre Degli Art Wind & Fire Sì che l'abbiamo messa L'abbiamo messa Ah cavolo Allora la memoria è andata Ciao domani Ciao